C'è chi dice che nel corso della propria vita bisogna almeno piantare un albero, scrivere un libro e fare un figlio. Io ci aggiungo che nella vita bisognerebbe anche, almeno una volta, provare a costruire una trottola. Ora, oggi l'abbiamo fatto con Giorno e Giulio e i miei figli, adoperando non un tornio, ma un trapano adattato, quindi in maniera molto rudimentale. E abbiamo fatto questa trottola tricolore. Adesso vi faccio vedere come funziona. Si prende un filo, un filo d'accuscito, lo si avvolge in questo tipo di trottola alla sommità alta, ed ecco il risultato di una domenica pomeriggio, insieme a Giorno e Giulio. Guardate quanto dura, ecco ho trovato il porto. Ve lo faccio rivedere. La colorazione ci ha dato qualche problema, insomma è la prima trottola sedia che abbiamo fatto.